La storia del cinema è fatta comunque di certi caroni di linguaggio che sono sempre stati un po' gli stessi, quelli che hanno funzionato, quelli che poi sono invecchiati rapidamente si sono dismessi, tipo l'uso dello zoom anni 70 è durato molto poco. Le dissolvenze a onda. Sì, o le tendine tipo Star Wars che sono all'altra volta una citazione del cinema di una volta che passava, i camiscena erano fatti con le tendine piuttosto che le chiusure iride, insomma c'erano delle cose, però in realtà secondo me la grammatica è quella lì, non è inutile cercare di fare grandi stravolgimenti perché non scappi, rischi solo di fare una roba che stride dopo pochi mesi. Io fai un film, che cazzo ne so, mi ricordo, Sin City che era tutto in bianco e nero, solo il sangue rollo. Però è durato poco. Sì, è durato poco. L'importante probabilmente è riuscire a far scordare allo spettatore che sta vedendo qualcosa e che entri totalmente nella trama. In realtà lo scopo vero è quello di creare empatia assoluta tra te che vedi una storia e dimentichi tutto tranne che appunto la partecipazione con l'avventura del personaggio, quindi quello è fondamentale. Poi il tipo di macchina presa che tu usi è irrilevante secondo me. Grazie. Grazie.